Un saluto all'Istituto Italiano di Cultura di Hamburgo e a tutti gli istituti italiani di cultura europei, perché grazie a loro il suono italiano e la cultura italiana è diffusa in tutta Europa e mai come ora abbiamo bisogno, ognuno di noi che in questo momento è chiuso nelle proprie case per colpa del coronavirus, ognuno di noi ha bisogno di sentirsi unito, sentirsi parte di un'unica comunità, la comunità europea e la cultura, l'arte, le nostre opere sono fondamentali come nutrimento per tutto il popolo europeo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!